Tronaca ambulanti marocchini arrestati nel blitz dei carabinieri. Tra la merce c'erano 5 kg di hashish e tanto denaro. Teramo all'ospedale Mazzini è ancora un principio di incendio sospetto. Accade a Teramo in tempo di crisi in pieno centro spuntano anche gli scippatori delle pizze. Sport in ansia, il comune assicura la piscina coperta riapre con una nuova gara tra un anno via i lavori. Via Longo, l'housing sociale non decolla, oltre al progetto bloccate anche le graduatorie. Il raduno, Giulianova abbraccia un mare di carabinieri in congedo. Sport calcio dopo il cappotto, in Molise i tifosi processano il Giulianova. Palla a mano, esordio in agrodolce per le due squadre femminili di A1. Buonasera e benvenuti al telegiornale di Teleponte. Apriamo con la cronaca. Un duro colpo al mercato delle droghe leggere al confine tra il Teramano e le Marche. è stato inferto la scorsa notte dai carabinieri della compagnia di Alba Adriatica. Il blizzi in un casolare di colonnella ha sorpreso quattro ambulanti marocchini che nella mercanzia avevano nascosto anche 5 kg di hashish e 10.000 euro in contanti. I dettagli nel servizio. 5 kg di hashish tolti dal mercato del fumo della costa Teramana e Ascolana, tra Tortoreto e San Benedetto del Tronto. e il bilancio del blizzi che nelle scorse ore ha portato i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Alba Adriatica della stazione di colonnella, diretti da Maggiore Emanuele Mazzotta, a fare riluzione in un casolare presso il cimitero di colonnella in contrada a Rio Moro. Sono stati arrestati quattro marocchini tra i 21 e i 33 anni, tra cui una donna. All'interno di scatole che all'origine contenevano banane, gli ambulanti nascondevano tra la merce destinata al mercato anche 50 panetti da un etto ciascuno di hashish. La perquisizione ha permesso di rinvenire anche 10.000 euro in contanti, cellulari e tablet, oltre al materiale per confezionare eventuali dosi al minuto, anche se gli investigatori ritengono, sulla base del volume di denaro ritrovato, di avere a che fare con personaggi che smistavano quantità minime vicine a blocchi di chili. I quattro sono ambulanti irregolari sul territorio italiano che avevano preso in affitto un appartamento nel casolare dal quale si allontanavano a turno senza mai lasciarlo sguarnito. Da qui la conferma per i militari del nucleo operativo coordinato dal luogotenente Gregorio Cammisa che all'interno fosse custodito materiale di valore come lo stupefacente. Dalle parole del comandante di Abba Triatica, il Maggiore Mazzotta, la indicazione del mercato di riferimento dello stupefacente sequestrato. L'abbinamento dei soggetti generalmente dediti al consumo dello stupefacente con gente che si avvicina a questi ultimi e da qui l'osservazione, il pedinamento di questa successiva irruzione e controllo. Noi riteniamo la costiera sino a San Benzo del Tronto, quindi la parte nord Abruzzo e la parte sud delle Marche. I quattro arrestati sono stati portati nel carcere di Teramo di Castronio e sono in attesa dell'udienza di convalida davanti al magistrato. Un principio di incendio per fortuna domato con tempestività dalle squadre antincendio in servizio continuo si è sviluppato questa mattina nei sotterranei dell'ospedale Mazzini di Teramo. Il fuoco è divampato da una scatola di derivazione forse telefonica e non elettrica e si è estesa ad un locale nella zona spogliatoi del personale in corrispondenza al piano superiore dell'atrio di ingresso e degli ascensori. Ben presto il corridoio si è riempito di un fumo acre e il forte odore di bruciato ha allarmato le decine di utenti presenti nel nosocomio. Decisivo per infedire che le fiamme si propagassero alle altre strutture è stato l'intervento della squadra antincendio gestita dal gruppo Servizi Associati, GSA, che ha in appalto la gestione dei sistemi di sicurezza contro il fuoco della ASL Teramana. L'area è stata isolata con la chiusura delle porte tagliafuoco e con un estintore è stato soffocato il focolaio prima della bonifica definitiva della zona interessata. Adesso sono al vaglio le cause del principio di incendio su cui grava il forte sospetto della mano dell'uomo. La scatola di derivazione infatti non ha collegamenti elettrici e dunque è possibile escludere un cortocircuito. Quello di oggi è il terzo episodio che si verifica al Mazzini o nelle aree di pertinenza. Quest'estate un piromane diede fuoco alla Pineta sul lato orientale dell'ospedale dinanzi all'ospis e qualche mese fa qualcuno incendiò un cestino dei rifiuti del centro prelievi del secondo lotto dopo aver atteso l'uscita degli utenti e del gran parte del personale addetto. Sul servizio antincendio dell'ospedale Mazzini pende anche la spada di Damocle della Spending Review. Nelle intenzioni del direttore generale Roberto Fagnano c'è quella di non rinnovare la convenzione il cui costo annuale ammonta ad oltre un milione e mezzo di euro nonostante il nosocomio terramano sia privo di infrastrutture contro il fuoco e soprattutto non sia dotato di un certificato di prevenzione incendi. Ancora fiamme nel pomeriggio di ieri e ancora una volta il sospetto che a provocarle sia stato un piromane. Un rogo è divampato lungo via De Gasperi a Teramo a chiusura di una giornata che ne aveva vissuti altri due di incendi. Nei pressi di Bellante anche questi all'ambire la statale 80 e il traffico veicolare. A Teramo nel tratto di colline di coste Sant'Agostino tra gli hotel Sporting e Michelangelo il fuoco ha attecchito presto e bene sul sottobosco alimentato anche da un leggero vento. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco che in pochissimo tempo hanno avuto ragione del fuoco lasciando alla riflessione di come possa essere divampato una sola ipotesi. L'opera di un piromane. I vigili hanno infatti lavorato sotto una pioggerella fine e il sottobosco era umido e bagnato per il precedente scroscio d'acqua. Insomma la guardia resta alta anche se il clima adesso potrà solo aiutare dopo un'estate davvero di fuoco grazie alle scorribbande impunite dei piromani. L'amministrazione comunale di Teramo è fermamente intenzionata a riaprire la piscina comunale. Parola del sindaco Maurizio Brucchi che al termine di un sopralluogo con asle e vigili del fuoco all'impianto sta valutando le modalità per garantire la prosecuzione del servizio per un altro anno. Intanto all'attenzione del comune sono arrivati due project financing per ristrutturare e gestire l'impianto. Ci sono due proposte di project financing per la ristrutturazione e la gestione della piscina coperta a Teramo. Lei questa mattina sindaco ha effettuato un sopralluogo anche per verificare la fattibilità dei project financing. A dire il vero il sopralluogo di questa mattina e quello della settimana scorsa, oramai da una decina di giorni mi sto occupando a tempo pieno della piscina, è quello di riaprire la piscina nell'emore della presentazione di un project. Questo lo dice la normativa, sono arrivate delle proposte di project, nell'emore che l'iter amministrativo si svolga e quindi arrivi alla scelta del proponente che poi dovrà fare i lavori per quanto riguarda la ristrutturazione completa della piscina e parliamo di lavori che sfiorano i 2 milioni di euro, parliamo davvero di tanti soldini, io non voglio chiudere la piscina comunale, quindi in questo tempo che potrà essere di otto mesi, un anno, perché poi il percorso non è così rapido, ma noi cercheremo di velocizzarlo, sia la settimana scorsa, stamattina e domani tre sopralluoghi consecutivi per verificare insieme a chi in qualche modo poi deve rilasciare il permesso se ci sono i presupposti, e io credo di sì, per fare una gara, un'evidenza pubblica veloce così come abbiamo fatto per la gestione della piscina all'aperto per garantire l'apertura della piscina anche per questo anno. Non una proroga. Ma guardi, io adesso, insomma, io capisco che l'opposizione debba fare il proprio lavoro, ma veramente senza falsa modestia, io credo che oramai sono 20 anni che mi occupo di cosa pubblica e so le cose che si possono fare e quelle che non si possono fare. Noi abbiamo fatto come è giusto che sia, perché non potrebbe essere altrimenti, applichiamo la legge e quindi è normale che se ci sono i presupposti per fare una proroga me lo dirà l'ufficio e si valuterà la proroga, se non ci sono i presupposti si farà un bando, stiamo tranquilli Terramani, l'obiettivo del sindaco Maurizio Brucch è quello di riaprire la piscina anche per quest'anno, nell'emore di avere un project financing approvato che ci darà da qui a qualche mese, a qualche anno, una piscina nuova, completamente ristrutturata, perché Teramo non può fare a meno di una piscina. È stata sfiorata la tragedia oggi pomeriggio, poco dopo le 16.30, nelle campagne di Guzzano, di Castellalto, dove un trattore a cingoli si è ribaltato in un pendio scosceso sul fondo arato. Il conducente, un pensionato di 68 anni del posto, è stato sbalzato dal sedile di guida e ha rischiato di finire completamente sotto il pesante mezzo agricolo che si è capovolto su se stesso più volte, finendo assieme all'uomo in fondo ad una piccola scarpata. L'intervento dei vigili del fuoco di Teramo e del personale del 118 ha permesso di salvargli la vita. I pompieri sono riusciti in poco tempo a raggiungerlo e a soccorrerlo. L'uomo è rimasto incastrato sotto il mezzo cingolato, che è stato sollevato in condizioni molto difficili per la pendenza del terreno dai vigili, permettendo così l'assistenza al ferito. L'agricoltore è stato trasferito con l'eli ambulanza del 118 di Pescara al Mazzini, dove i medici hanno ricoverato l'uomo in prognosi riservata. Ha riportato lo schiacciamento della gamba destra, ma non corre pericolo di vita, nonostante la dinamica del gravissimo incidente. Questo è il momento del soccorso da parte dell'eli ambulanza del 118 di Pescara, che poi ha trasportato l'uomo al Mazzini di Teramo. Incredibile ma vero. E' una rubrica della settimana enigmistica, ma ben si addice a quello che è avvenuto sabato sera a Teramo nella centralissima Piazza Dante. Avete mai sentito parlare di scippi di pizza? E' quello che è successo ad un uomo che aveva appena ritirato da una nota pizzeria del centro due vassoi di pizza al taglio. Giunto in prossimità di Piazza Dante, dove aveva parcheggiato la sua auto, è stato spinto alle spalle da qualcuno e contemporaneamente un altro individuo gli ha sfilato dalle mani il vassoio più grande. Tutti e due si sono dati alla fuga, correndo a piedi lungo la traversa dell'Istituto Regina Margherita verso Via Milli. Al malcapitato, che solo per fortuna non è caduto rovinosamente a terra, non è rimasto altro da fare che tornare a casa preoccupato per l'incredibile accaduto e deluso per aver riportato solo metà della cena a base di pizza. La squadra di polizia giudiziaria della sezione Polizia Stradale di Teramo nell'ambito dei controlli di agenzie di pratiche auto ha denunciato sei persone in concorso tra loro per falso in atto pubblico. Tra questi figurano il titolare di un'agenzia automobilistica della provincia di Teramo e dipendenti o venditori di auto presso concessionarie o rivendite di auto nelle province di Chieti e Pescara. L'indagine ha permesso di accertare che alcuni proprietari di autovettura sottoscrivevano gli atti di vendita dei veicoli presso le concessionarie a cui si erano rivolti per l'acquisto di altri veicoli, in contrasto con quanto è previsto dalla vigente normativa in materia di autentica delle firme su atti pubblici. Solo successivamente il titolare dell'agenzia, nel disbrigo delle formalità per le trascrizioni di proprietà, attestava falsamente che il proprietario o venditore aveva firmato davanti a lui presso la sede dell'agenzia, tra l'altro lontana dai centri dove era venuta la compravendita del veicolo. E torniamo al comune di Teramo. Lo svincolo dell'8-0 è un'opera monca. A sostenerlo è Maurizio Verna, che al termine della commissione di controllo e garanzia da lui presieduta è tornato ad accusare l'amministrazione comunale di sprechi sull'opera, che di fatto avrà un tassello mancante rispetto al progetto iniziale. Sentiamo. Secondo lei, in base a quello che è emerso oggi nella commissione di garanzia e vigilanza, lo svincolo della camarada dell'8-0, così come stanno le cose, soprattutto con i fondi che ci sono, verrebbe realizzato in maniera parziale? Sì, c'è questo rischio, perché l'assessore oggi l'ha detto chiaramente in commissione, che si stanno cautelando su un percorso per portare alla realizzazione funzionale di quell'opera. Funzionale significa anche senza questa eventuale rampa. L'assessore ha detto che stanno valutando con la regione Abruzzo, col presidente D'Alfonso, anche di trovare altri fondi per portare al compravendimento questa cosa. E questo purtroppo si ricollega ai dubbi che avevamo noi la settimana scorsa, e cioè all'interno di questo quadro economico di 2.700.000 euro, rischiamo di non vedere realmente e completamente, soprattutto, realizzata quell'opera. Ecco il punto interrogativo che noi avevamo messo sulla rampa direzione Roma. Le risposte dei tecnici questa mattina non vi hanno soddisfatto? Le risposte dei tecnici purtroppo hanno confermato che non ci sono i fondi accantonati all'interno del quadro economico per l'avvertenza che si è aperta con l'impresa. L'impresa oggi ufficialmente hanno comunicato che ha fatto una riserva in questi anni di 1.800.000 euro, che non saranno quelli ovviamente, però purtroppo una parte sì. Andrebbero però verso un accordo, ha detto l'ingegnero? Un accordo sì, speriamo il prima possibile, speriamo il meno doloroso possibile per questa amministrazione, perché qualsiasi somma poi indicata dovrà essere trovata purtroppo non più all'interno del quadro economico, ma attraverso il bilancio comunale. Ed è questo il paradosso di questa situazione, cioè in quest'opera così importante c'è la possibilità per questa città di avere almeno 700.000 euro di opere in più, ci troveremo a non avere queste opere in più, ci troveremo una rampa in meno e ci troveremo anche a trovare purtroppo altri soldi, da dove? Dal bilancio comunale, cioè dai cittadini che saranno costretti a dover partecipare a questa spesa. Insomma, noi in questi anni non stiamo lottando contro questo svingolo, stiamo cercando di farlo realizzare il prima possibile, ovviamente c'era un altro progetto che secondo noi era migliore e purtroppo dopo anni i nodi vengono a pettine, stanno venendo a pettine oggi e noi come minoranza non vogliamo ostacolarlo, ma purtroppo dobbiamo porre chiarezza a una questione così importante per la città. Sullo svincolo di diverso avviso è l'assessore all'urbanistica Mario Cozzi che evidenziando come i problemi dell'infrastruttura arrivino da lontano, ribadisce l'importanza di un'opera strategica che a breve sarà realizzata, decongestionando ulteriormente il problema del traffico. La bretella mancante per Cozzi verrà realizzata in un secondo momento. Sentiamolo. Seguire il percorso amministrativo e realizzare l'opera, questo è l'obiettivo dell'amministrazione comunale in relazione allo svincolo della Gammarana dell'Otto Zero? Sì, assolutamente. Sappiamo bene l'importanza strategica dell'intervento e sappiamo bene anche da quanto tempo ne parliamo e quante problematiche ha dovuto subire quest'opera. Ora abbiamo cercato di fare sintesi di tutto, di seguire, di approfondire e affrontare tutte le problematiche. Siamo in un momento in cui l'opera sta andando avanti bene e tutti i percorsi sono parallelamente in corso. Con tutta probabilità riusciremo a chiudere l'opera entro la fine dell'anno, inizio anno nuovo. Comunque riusciamo a portare a casa questo risultato. Le variabili come le gestite? Come sempre gli espropri? Le variabili in questo, come dicevo, il percorso parte lontano, sono passate diversi anni, c'è stato un errore procedurale che il TAR ha sospeso e quindi la procedura è stata rifatta da capo e quindi da lì ci sono delle variabili legate sia all'esproprio che alle riserve delle imprese. Quantificabili in quanti euro? Sono in corso di approfondimento seguite dagli uffici preposti come da codice degli appalti. Ora, quello che voglio dire è che noi fondamentalmente abbiamo a cuore l'obiettivo, il raggiungimento dell'obiettivo. Stiamo cercando di capire e di lavorare insieme in sinergia, in sinergia ritrovata anche. Sappiamo bene quante difficoltà per attivare la proprietà sui terreni, quante difficoltà con le imprese, con il direttore dei lavori. Oggi abbiamo trovato delle sintesi su questo. Chiaramente è giusto ed è normale che tutti tengono a tutelare i propri interessi come anche il Comune e quindi io sono fiducioso che il percorso si possa chiudere in maniera completa e definitiva. Si terrà domani alle 15 a Roma l'incontro tra il sindaco di Teramo Maurizio Brucchi e il sottosegretario del Ministero dell'Istruzione Angela Donghia. Si parlerà del futuro dell'Istituto Musicale Braga che versa in gravissime condizioni economiche con i professori senza stipendio da 14 mesi e con la richiesta da parte di tutti di trasferimento in altri istituti musicali. Il sindaco Brucchi la scorsa settimana aveva sollecitato l'incontro con due mail scritte direttamente alla Donghia che anche alla luce della manifestazione di sabato scorso degli allievi e dei docenti dell'Istituto Teramano che hanno suonato non stop sotto al Comune ha fissato l'incontro per domani alle 15. Parteciperà anche il direttore del Braga Federico Paci. Il capogruppo del PD Gian Guido D'Alberto tuona contro i ritardi dell'housing sociale. Secondo l'esponente dell'opposizione al di là di un problema di riqualificazione di Via Longo le lungaggini incidono negativamente anche dal punto di vista sociale dal momento che le graduatorie per l'assegnazione degli alloggi sono rimaste bloccate il servizio. L'housing sociale di Via Longo a Teramo è in netto ritardo lo denuncia il capogruppo del PD in Consiglio Comunale Gian Guido D'Alberto che elenca una serie di problemi che questo ritardo comporta. Sì è un ritardo ormai cronico che sta impantanando questo progetto è l'accusa che noi abbiamo fatto all'amministrazione fin dall'inizio quando ha portato per la prima volta in Consiglio Comunale il progetto addirittura si prevedevano tempi di un cronoprogramma di realizzazione del piano di mobilità delle famiglie di Via Longo che doveva concludersi entro il 2013. I problemi principali quali sono? I problemi è ovviamente la garanzia del trasferimento delle famiglie che sono presenti nelle abitazioni ripeto l'amministrazione era partita con un cronoprogramma che prevedeva la conclusione del 2013 cosa assolutamente fuori luogo ed è questa la ragione per cui noi fin dall'inizio abbiamo detto che era un progetto che veramente è un'avventura sostanzialmente così è stata sulla pelle di queste famiglie e di questi cittadini poi l'amministrazione ha stipulato una convenzione con il fondo che prevedeva il trasferimento in due tranche entro il 31 ottobre due palazzine entro il 31 marzo del 2015 le altre e anche questi termini sono completamente saltati sono completamente saltati e tra l'altro c'è una penale appunto come sei sul capo del comune di 150 mila euro quindi noi ci troviamo con una situazione in cui il privato ha il coltello dalla parte del manico questa situazione tra l'altro ha creato un problema di emergenza abitativa perché noi dal 2012 il comune dal 2012 per completare questo progetto questo avventuroso progetto ha bloccato le graduatorie dell'emergenza abitativa praticamente dal 2012 noi non riapriamo il bando e c'è una situazione di emergenza sociale allarmante con famiglie che non riescono ad accedere al mercato dell'abitazione c'è la possibilità di accedere ad un'abitazione popolare le motivazioni di questo ritardo le motivazioni appunto derivano dalla incapacità di programmare il trasferimento di queste famiglie e probabilmente da una eccessiva fiducia da parte dell'amministrazione che a nostro avviso è un'eccessiva superficialità tra l'altro questo ritardo ha comportato anche una riduzione del valore dell'area che noi conferiamo al fondo quindi con un danno ulteriore per l'amministrazione cioè il centrosinistra Gianguido D'Alberto è sempre stato un forte oppositore dell'housing sociale in passato qualche sindaco aveva promesso che voleva vendere quelle case agli inquilini cosa che non si può fare abbiamo un progetto importante siamo in reggero ritardo è vero ma alla fine Teramo avrà la possibilità con 20 milioni di euro di soldi di casse depositi e presti di ristrutturare un quartiere c'è questa volontà nuova udienza questo pomeriggio del processo a carico dell'ex manager dell'ASL di Teramo Giustino Varrassi accusato di peculato truffa e abuso d'ufficio per il presunto in debito utilizzo dell'autoblu e per la promozione dell'urologo Corrado Robimarga oggi dopo le richieste di pena avanzate nella scorsa udienza dalla procura è stata la volta dei legali di Varrassi che a colpi di precedenti giuri sprudenziali sentenze di cassazione hanno sostenuto come l'utilizzo dell'auto blu a carico dell'ex direttore non si possa configurare né nell'ipotesi di peculato né in quella meno grave di peculato d'uso il WWF si costituirà parte civile nel procedimento sul mancato funzionamento dei depuratori in provincia di Teramo ad annunciarlo è la stessa associazione ambientalista che questa mattina ha presentato la relativa richiesta nel corso dell'udienza preliminare fissata davanti al GUP Domenico Canosa il procedimento è quello relativo al mancato funzionamento degli impianti lungo la costa Teramana e nell'entroterra Vibratiano che cinque anni fa arrivò sul tavolo del PM Laura Colica sei indagati tutti ex amministratori e tecnici della Ruzzoreti S.P.A. tutti chiamati a rispondere dei problemi rilevati rispetto ai depuratori di Villa Rosa Albadriatica Santomero Sant'Egidio Nereto e Corropoli il capogruppo del PD in regione Abruzzo Sandro Mariani accoglie positivamente lo stanziamento di fondi per la realizzazione di cinque nuovi ospedali in Abruzzo ma sottolinea dobbiamo pensare ad una sanità che punti alle eccellenze l'intervista Sandro Mariani capogruppo del PD in consiglio regionale ha accolto con favore lo stanziamento di questi soldi l'accreditamento di questi soldi per realizzare cinque nuovi ospedali in Abruzzo tra questi anche quello di Giuliano però dice allo stesso tempo bisogna avere il coraggio invece di fare un tipo di sanità diversa che significa? Sì certamente questa è una notizia positiva ma è un piccolo tassello nel mare magnum della sanità regionale naturalmente bisogna avere il coraggio di come abbiamo detto più volte sul nuovo piano sanitario di pensare una sanità diversa che punta sulle eccellenze avendo il coraggio di mettere da parte per usare un termine un po' più nobile ciò che oggi non funziona quindi fare centri d'eccellenza punti di riferimento provinciali anche regionali e quindi su questo dobbiamo puntare tutti quanti con forza e decisione Quindi lei è d'accordo con chi dice per esempio per la provincia di Terra un unico grande ospedale baricentrico? L'unico grande ospedale baricentrico è un bel sogno ma penso sia irrealizzabile nell'immediato invece è possibile pensare un ospedale unico nei quattro plessi ospedalieri già esistenti quindi su questo sicuramente va fatto un ragionamento sui quattro plessi ospedalieri che abbiamo su questi vanno organizzati nei vari pezzi vari punti d'eccellenza L'assessore regionale all'agricoltura Dino Pepe è l'unico a cui non è stata tolta né aggiunta una delega nel movimentato rimpasto dell'aggiunta d'Alfonso Lo prendo ha detto Pepe come una conferma della fiducia da parte del governatore della maggioranza ora siamo più forti e sul nuovo PSR il programma di sviluppo rurale 2014-2020 ha aggiunto sarà approvato entro l'anno per aprire i primi bandi entro dicembre 2015 ci sentiamo L'assessore Pepe ha mantenuto le deleghe che aveva in questo tourbillon di rimescolamento e di rimpasto come lo accoglie come lo giudica? In maniera positiva una conferma di fiducia da parte del governatore D'Alfonso e da parte di tutta la maggioranza ovviamente il gruppo di maggioranza si rafforza con questa operazione conservando anche me lo auguro fortemente l'appoggio di Selle in particolar modo la specificità la competenza e la dedizione particolare di Mario Mazzocca Ci sono delle persone che protestano per il PSR perché non arriva che cosa gli diciamo? Ci sono persone danneggiate dal sisma 2009 in particolare imprese agricole che hanno avuto dei benefici ma purtroppo la specificità dei danni che ha causato il sisma è purtroppo la specificità di quel bando che prevede la rendicondazione e quindi la spesa preventiva e poi il rimborso da parte del PSR ha causato ad alcune di quelle imprese tante difficoltà finanziarie in questo anno siamo stati vicinissimi a loro tante imprese hanno portato a termine il loro investimento e cercheremo di trovare una soluzione anche per le ultime ma quando sarà operativo? Il nuovo PSR 2014-2020 sicuramente ci attendiamo l'approvazione entro l'anno per aprire i primi bandi entro appunto il dicembre 2015 Le buone notizie arrivano per il comune di Campli dove il presidente della regione Luciano D'Alfonso ha annunciato lo stanziamento di oltre un milione di euro per il risanamento idrogeologico delle aree più colpite dal maltempo dell'inverno scorso sentiamo Sindaco Quaresimale sono arrivati i fondi dalla regione per ripristinare la situazione disastrosa delle frane Sì più che arrivati i soldi è pervenuta una nota del governatore D'Alfonso che voglio ringraziare in cui comunica appunto che Campli ha avuto un finanziamento di un milione e 550 mila euro che un milione è subito disponibile quindi non appena riceviamo la lettera della protezione civile partiamo con l'appalto invece 550 mila euro praticamente dobbiamo attendere Come verranno distribuiti questi fondi? Questi soldi saranno destinati a Pastinella che diciamo che è la zona più colpita in cui abbiamo diverse famiglie evacuate che vivono a casa in alcuni appartamenti che il comune ha dato a queste famiglie poi abbiamo un'altra somma di circa 400 mila euro che destineremo a Paduli che anche lì c'è una zona franosa molto abbondante quindi lì faremo dei lavori di trenaggio per cercare di attenuare il fenomeno verosimilmente quando si concluderanno questi lavori? Ma lì praticamente si va in derogo alla normativa perché appunto si trattano interventi di urgenza io sarò nominato come commissario quindi i termini saranno più brevi quindi io penso che entro la primavera questi lavori dovrebbero terminare se tutto va bene Paolo Odincecco esponente dell'Italia dei Valori torna a chiedere la necessità di un potenziamento dei collegamenti ferroviari di Teramo verso Ancona Ascoli dice Odincecco ha molti meno abitanti eppure è collegata meglio in termini di mezzi a disposizione e di coincidenze sentiamo Paolo Odincecco lei sostiene la necessità di potenziare Frecciarossa e anche il collegamento di Teramo verso Ancona qual è lo stato della situazione? Informiamo innanzitutto oltre ai nostri concittadini e tutta la regione che i Frecciarossa attualmente che fermano definitivamente da Ancona dal 20 settembre proseguono per Pescara Foggia Bari il problema qual è? giusto per dare un esempio i nostri cugini Ascolani tenga conto che Ascoli conta quasi 10.000 abitanti meno di Teramo è un'entroterra praticamente desertico non c'è nessuno sono solo piccoli villaggi tra le colline Ascoli Piceno ha in corrispondenza tutte le frecce rosse e le frecce bianche in transito da Ancona ai treni diretti quindi tenga conto che il treno questo treno che prosegue per Bari che parte da Milano alle 7.50 e arriva alle 10.20 pensate sta ad Ancona dopo 300 km alle 10.20 dopo 10 minuti ha la coincidenza per Ascoli Piceno quindi come vedete i cittadini di Ascoli non sono più costretti ad arrivare a San Benedetto e poi cambiare come si stava fino all'anno scorso oggi i treni diretti ripeto sono 12 attualmente in corrispondenza di tutte le frecce bianche che arrivano ad Ancona e partendo alle 8.10 da Milano a mezzogiorno sono ad Ascoli un discorso completamente diverso per quanto riguarda i nostri concittadini terramani che pensate con soli 40 minuti in più possono raggiungere il capoluogo purtroppo sono costretti attualmente a utilizzare i treni diretti ad Ascoli però a San Benedetto si bloccano perché poi il treno prosegue per Ascoli quindi c'è il cambio del treno oltre a questo cambio ce n'è un altro da fare a Giulianova pensate quindi impiegherebbero altre due ore da Milano fino a Teramo non dimenticare ancora un piccolo particolare Ascoli cioè Teramo a 50 km di distanza ha il nostro capoluogo di regione e sarebbe entusiasta di poter prendere treni diretti da Teramo fino ad Ancona e poi utilizzare i freccia bianca o i freccia rossa Sabato e domenica scorsi a Giulianova si è svolto il primo raduno interregionale Abruzzo Molise e Puglia dell'Associazione Nazionale Carabinieri con la partecipazione di centinaia di iscritti presenti il Presidente Nazionale Libero Losardo i comandanti di Legione Abruzzo e Puglia Michele Sirimarco e Giovanni Cataldo il Direttore del Centro Nazionale Amministrativo Carabinieri Claudio Quarta il servizio grande partecipazione a Giulianova in questo weekend al raduno interregionale Abruzzo Molise e Puglia dell'Associazione Nazionale Carabinieri con la partecipazione di più di 150 sezioni la prima giornata dell'evento organizzata con il patrocinio del Comune si è aperta con la deposizione delle corone ai monumenti a salvo d'acquisto al generale Carlo Alberto dalla Chiesa e ai caduti al Cursal il convegno sull'arma dei Carabinieri nella Prima Guerra Mondiale dopo i saluti del sindaco di Giulianova Francesco Mastromauro e l'introduzione del colonnello Francesco D'Amelio sono seguiti gli interventi del comandante provinciale dei Carabinieri di Teramo per Vittorio Romano e dello storico e giornalista Sandro Galantini nel pomeriggio sempre al Cursal ha preso il via la mostra sulle uniformi e cimeli dell'arma dei Carabinieri a cura di Fabio Del Zoppo a cui è seguita l'esibizione di gruppi folcloristici e del coro Madonna del Carmelo di Montesilvano domenica gran finale con il corteo che da piazza dalla chiesa ha attraversato il Lido per arrivare nella chiesa di San Pietro Apostolo dove è stata celebrata la messa in suffragio di tutti i Carabinieri defunti il primo raduno interregionale d'Abruzzo Molise e Puglia dell'Associazione Nazionale Carabinieri ha visto la partecipazione di centinaia di iscritti e la presenza del Presidente Nazionale Generale Libero Losardo dei Comandanti di Legione Abruzzo e Puglia il Generale Michele Sirimarco e il Generale Giovanni Cataldo del Direttore del Centro Nazionale Amministrativo Carabinieri Claudio Quarta e dell'Onorevole Fabrizio Di Stefano nel suo saluto il Sindaco Francesco Mastromauro ringraziando l'Associazione per aver scelto Giulianova ha invitato i Carabinieri a vigilare affinché la città sia sempre più sicura il Generale Sirimarco ha evidenziato il lavoro svolto dai Carabinieri uomini tenaci e sempre pronti a garantire sicurezza e senso dello Stato tra la gente ricordando che proprio a Giulianova nel 1861 nacque la prima luogotenenza in Abruzzo composta da 5 Carabinieri a cavallo e 5 a piedi il Presidente Nazionale dell'Associazione Losardo ha sottolineato come l'Associazione e l'Arma dei Carabinieri siano un'unica cosa e che l'Arma dei Carabinieri vivrà fino a quando sarà amata dal popolo italiano La giornata si è conclusa nella Chiesa di San Pietro Apostolo con la celebrazione di una messa in suffragio di tutti i Carabinieri morti in servizio La sezione Terramana Gran Sasso d'Italia del Club Alpino Italiano organizza il quindicesimo corso base di escursionismo che inizierà martedì 29 settembre rivolti a quanti vogliano conoscere la montagna nei suoi vari aspetti acquisire gli strumenti per poterla affrontare in sicurezza e goderne appieno le bellezze Sono stati premiati otto cittadini che si sono distinti per essersi profusi per il bene della cittadinanza a Pescara ha premiato anche un carabiniere che visse l'orrore della seconda guerra mondiale sulla propria pelle sentiamo L'agire sociale e il predigarsi per il bene comune vengono premiati a Pescara consegnati stamani i diplomi di onorificenza dell'ordine al merito della Repubblica Italiana conferite con degreto del Presidente della Repubblica lo scorso 2 giugno Il riconoscimento è andato a otto cittadini tre sono donne il merito è quello di essersi profusi per la cittadinanza a loro è andato anche il titolo di cavaliere La medaglia di liberazione riconoscimento per l'impegno profuso a rischio della propria vita è stata consegnata in concomitanza con la ricorrenza del settantesimo anniversario della guerra di liberazione e della resistenza al signor Abramo Rossi ex carabiniere internato in un lager nazista per quasi due anni dalla fine del 43 al 45 la motivazione risiede nel fatto che la sua resistenza a quell'orrore è stata ritenuta attaccamento alla patria tra le donne premiate Gabriella Lasca dirigente amministrativo del comune di Roseto e fondatrice dell'associazione Micole Angel intitolata la figlia Micole scomparsa prematuramente a 17 anni l'amore che la giovane ragazza nutriva per la poesia ha portato all'istituzione di un concorso nazionale di poesia scrittura e lettura giovanile questo sarà uno stimolo a fare di più fare di più e a mantenere saldi quei valori che oggi sono andati un po' persi e che effettivamente per questo penso che la nostra società si è abbruttita e sta andando un pochino alla deriva quindi bisogna recuperare dei valori e anche questo tipo di cerimonie che io avevo sempre un pochino tra parentesi snobbato effettivamente servono per dare significato per ridare significato alle cose ai gesti ai simboli Gero Grassi vice capogruppo PD alla Camera tiene vivo il ricordo di Aldo Moro ma soprattutto la vicenda politica e investigativa che dopo 37 anni non ha ancora raccontato tutta la verità sentiamo una lunga e dettagliata relazione che ha ricostruito un periodo della nostra storia che ha avuto poi un seguito praticamente 38 anni della storia italiana e verità non ancora sono state dette oggi ne abbiamo dette parecchie di verità ne abbiamo scoperto come Commissione Moro molte io credo che stiamo sulla strada buona c'è un dato importante il popolo italiano vuole la verità sul rapimento e sulla morte di Moro perché capisce che quello è stato un crocevia ed è stata la fine della Prima Repubblica perché Grassi gira l'Italia per raccontare questa storia e questo suo lavoro perché ho la fiducia del Partito Democratico che ci ha creduto in me e in questa storia è perché penso che parlare di Moro significhi aggiustare riparare migliorare la società attuale raccontare quella verità ai giovani li aiuta a crescere e a proiettare in un mondo migliore 2015 perché è morto Moro? perché i sovietici e gli americani non volevano che il Partito Comunista fosse democratizzato perché Moro voleva un'Europa che non fosse quella delle banche perché Moro voleva per Israele e Palestina due territori diversi con due popoli diversi perché Moro immaginava un'Europa che non fosse succube né della Russia ma nemmeno dell'America c'è un'eredità è come chiedere se c'è un'eredità di Giotto di Leonardo da Vinci si apre mercoledì prossimo 23 settembre proseguirà fino al 10 novembre prossimo la campagna abbonamenti della stagione Prosa 2015-2016 della società della musica e del teatro Primo Riccitelli di Teramo gli interessanti potranno acquistare gli abbonamenti negli uffici della Riccitelli aperti tutti i giorni sabato e festivi esclusi dalle 9.30 alle 12.30 nei pomeriggi di lunedì mercoledì e venerdì dalle 15.30 alle 18.30 gli abbonamenti sono disponibili anche online sul sito www.primoricitelli.it grande festa per la signora Luisa di Rocca Santa Maria che ha compiuto 100 anni vediamo la signora Aurelia è l'animatrice del City Residence di Teramo e proprio qui nel City Residence c'è la signora che compie 100 anni 100 anni è un bellissimo traguardo anche la corona di buon compleanno allora una nipote dall'America ha fatto arrivare questa bella corona per oggi ci teneva lei non è potuta venire però ha fatto arrivare la sua corona di dove è la signora? è di Rocca Santa Maria e sta da noi è quasi due anni che sta qui con noi e sta bene sì, 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 sì è sempre tranquilla e mi te ringrazia sempre e poi è circondata dall'affetto di tanti tanti parenti e amici perché è una signora molto buona aiutata da tante persone la festa in cosa consiste? la festa noi facciamo sempre cose molto semplici perché non si stangono facilmente e quindi in Ede verranno delle autorità locale faremo un rinfresco che fra un po' prepareremo il rinfresco giù ci sono le nostre cuoche che stanno già preparando sono all'opera e tutto qui verrà Roppopò animerà un po' la serata è una grande festa è una grande festa beh auguri, auguri Luisa tanto grazie tanto, tanto, tanto a tutta l'America a tutta l'America a tutta l'America a tutti quanti che lavoro hai fatto? è un po' di tutto soprattutto la campagna è un po' di tutto in campagna? e pure pure tanti auguri ovviamente alla signora Luisa e adesso andiamo a vedere che tempo farà domani con le previsioni di Meteoteramo.it Previsioni in Abruzzo tempo caratterizzato da cielo in prevalenza sereno per l'intero arco della giornata su tutto il territorio temperature stazionarie massime comprese tra 24 e 27 gradi nelle conchie aquilane e marsicane tra 26 e 29 gradi sulle pianure adriattiche venti deboli nord orientali mari poco mossi o mossi in provincia di Teramo al mattino sereno su gran parte del territorio dal pomeriggio fino a notte cielo in prevalenza sereno temperature stazionarie massime comprese tra 26 e 29 gradi nelle pianure dell'entroterra tra 25 e 29 gradi sulle coste venti deboli a regime di brezza mari poco mossi si è chiuso senza sussulti Il mercato del Teramo, ieri nell'ultimo giorno di operazioni, non si sono registrati movimenti né in entrata né in uscita. I 24 elementi a disposizione di Vivarini sono tornati ad allenarsi oggi pomeriggio per preparare l'esordio in campionato di sabato contro il Savona Tribunali permettendo naturalmente. Mercoledì infatti presso il Collegio di Garanzia dello Sport del Coni verranno discussi i ricorsi di Forlì e Teramo, ricorsi che metteranno fine alla vicenda della Convin di Savona. Il Teramo punta alla riduzione dei punti di penalizzazione e della inibizione di tre anni inflitta al presidente Campitelli. Mentre il Teramo è ancora alle prese con le carte bollate, in Lega Pro si è giocato il terzo turno di campionato, male l'Aquila alla prima sconfitta stagionale. Questi comunque tutti i risultati maturati. L'Aquila Pontedera 0 a 1, Lupa Roma Rimini 1 a 0, Maceratese Lucchese 1 a 1, Pisa Ancona 1 a 0, Siena Prato 0 a 0, Spal Pistoiese 2 a 1, Tutto Cuoio Arezzo 0 a 1 e Sant'Arcangelo Teramo posticipata, Savona Carrarese posticipata. Questa invece è la classifica dopo tre giornate di campionato, Spal 9 punti, Pisa 6 punti, L'Aquila 5 con 4 punti, ci sono Maceratese, Lucchese, Rimini, Pontedera, Arezzo, poi con 3 punti Ancona e Siena. Due punti, Tutto Cuoio, Carrarese e Sant'Arcangelo con un punto Pistoiese e Prato a 0, Lupa Roma, Teramo Savona meno 6 punti di penalizzazione. Come vedete gli asterischi indicano le gare che devono ancora essere recuperate. Nel weekend, nel girone F di Serie D si è disputata la quarta di campionato. Vediamo tutti i risultati maturati. Agnonese, Giulianova 5 a 0, Amiternina, Vispesaro 0 a 2, Chieti, Avezzano 0 a 0, Folgore, Veregra, Matelica 1 a 0, Isernia, Fano 0 a 0, Iesina, Campobasso 0 a 3, Recanatese, Monticelli 0 a 0, San Benedettese, Castelfidardo 1 a 0, San Nicolò, Fermana 1 a 2. Questa è la classifica della Serie D, Girone F, Fano, Monticelli e San Benedettese guidano con 10 punti, Fermana 8, Isernia, Recanatese, Campobasso 7, Chieti, Avezzano 5, Matelica, Folgore, Veregra e Vispesaro 4, Giulianova, San Nicolò, Agnonese 3, Castelfidardo e Iesina 2, così come l'Amiternina. E adesso con il prossimo servizio vediamo com'è andata, soprattutto per le terramane. Ieri pomeriggio nel Girone F di Serie D si è giocato il quarto turno di campionato. Da un punto di vista statistico è stata una giornata con risultati divisi in maniera equa, 3 segni 1, 3 X e 3 2, e che ha fatto registrare poche emozioni. 17, infatti, sono stati gol messi a segno, con una media inferiore alle due reti a partita. Per quanto riguarda le terramane è andata male a San Nicolò e Giulianova. I biancazzurri sono stati sconfitti in casa dalla Fermana. 1-2 punteggio finale per effetto delle marcature realizzate nell'ordine dai canarini De Gano e Misin e dal San Nicolòese Brighi. Sconfitta pesante per l'11 di Vister Epifani, che è incappato in una prestazione sotto tono e che con questo KO si allontana ulteriormente dalle posizioni nobili della classifica. Ancora peggio, se possibile, ha fatto il Giulianova, che è stato travolto sul campo del Civitelle di Agnone. Prova disastrosa per gli uomini di Giorgini, che praticamente non sono mai stati in partita. 5-0 il finale, con gol di Guida e doppiette di Marold e Giallu. Per quanto riguarda le altre, la miternina è finita al tappeto in casa, al cospetto della Vispesalo. Una sconfitta che relega la formazione di Mister Angelone, all'ultimo posto in classifica con appena due punti. In alto, invece, è terminato 1-1 il derby Chieti-Avezzano, l'unica sfida tutta abruzzese prevista dal calendario. All'iniziale gol di Puglia ha replicato Surriano su calcio di rigore. Pareggio sostanzialmente giusto tra due squadre che si sono equivalse e che hanno dimostrato di poter recitare un ruolo importante del campionato. Un campionato nel quale il Fano, 0-0 Isernia, il Campobasso, 3-0 Iesi e la Samba di Dettese, 1-0 al Castelfidardo, dimostrano di essere una spanna sopra le altre, con il Monticelli sorpresa del raggruppamento. I marchigiani, con lo 0-0 di Recanati, hanno conservato imbattibilità e primo posto, confermandosi matricola terribile del Girone F. Nel campionato di eccellenza si è giocata la terza di andata, giornata sfavorevole per le formazioni di alta classifica. hanno perso infatti l'imbattibilità Pineto, Martinsicuro e Morrodoro, ossia tutte le tre squadre che alla vigilia erano a punteggio pieno. Vediamo tutti i risultati maturati nell'ultimo turno nel campionato di eccellenza. Capestrello-Torrese, 5-1, Celano-Morrodoro, 2-0, Cupello-Acqua e Sapone, 2-1, Martinsicuro-Vastese, 0-2, Montorri-88, Francavilla, 3-1, Pineto-Paterno, 1-2, Renato-Curi-Angolana, San Salvo, 3-0, San Buceto-Miglianico, 2-0 e Valdisangro-Albadriatica, 1-1. Questa è la classifica. Martinsicuro-Morrodoro, Pineto, San Salvo e Bastese, 6 punti. Con 5 punti ci sono Celano-Paterno e Cupello, Montorri-88, Renato-Curi-Angolana, Capestrello, San Buceto, 4 punti, Miglianico-Albadriatica, 3, Francavilla-Valdisangro, 2-2, Torrese, 1-0, 0 punti. E' andato ai padroni di casa del Campli il trofeo Città di Campli dedicato alla memoria di Lino D'Annunzio dopo aver sconfitto il Roseto e parliamo ovviamente di basket, i farnesi si sono ripetuti mettendo K.O. un'altra formazione di categoria superiore, il Rieti, con il punteggio finale di 78 a 72. Terzo posto finale invece per il Roseto che nella finalina di consolazione ha regolato Ortona con il punteggio di 82 a 62. La palla a mano, una vittoria e una sconfitta e questo il bilancio delle formazioni terramane di palla a mano femminile di Serie A1, debutto vincente per la nuova HF Teramo che ha sconfitto 29 a 26 il Casal Grande Padana, nuova HF che subito dopo la finale del match ha ufficializzato l'accordo con gli sponsor Globo al Max e Bioapta, i cui loghi compariranno sulle maglie da gioco delle Biancorosse. Andata male invece per la neopromossa Tinteramo sconfitta largamente 32 a 20 sul campo della pluridecorata Indeco Conversano. Sulla partita nuova HF Teramo-Casal Grande seguiamo il servizio. Esordio con il botto per la nuova HF Teramo. Nel primo impegno ufficiale del rinnovato campionato di Serie A1 con il format a 10 squadre, le Biancorosse battono il Casal Grande Padana, 29 a 26 il punteggio finale in favore della formazione di Settimio Massotti che al cospetto di una squadra molto più esperta e amalgamata si regala una grande prestazione raccogliendo tre punti fondamentali in chiave salvezza. La cronaca del match, l'avvio è un po' contratto, le squadre faticano a trovare i giusti ritmi sia in attacco che in difesa. Il primo tempo quindi scivola sui binari dell'equilibrio, Casal Grande prova l'allungo toccando il più due in due diverse circostanze, 7 al 9 al 22esimo e 10 al 12 al 27esimo. Ma proprio in chiusura due reti firmate da Pallarie e Oliveri filmano il 13 a 13 dell'intervallo. Nella ripresa poi Teramo rientra in campo più decisa. Nei primi 15 minuti, dapprima con un break di 5 a 2, poi con un altro parziale di 3 a 1, le Biancorosse costruiscono le fondamenta della vittoria allungando sul massimo vantaggio, più 6 al 17esimo sul 25 a 19. Casal Grande reagisce, prova a rimontare ma la nuova HF Teramo, grazie a una difesa di ferro, resiste e alla fine chiude avanti di 3, 29 a 26, mettendo in cassaforte i primi tre punti della stagione. Per quanto riguarda le singole, tra le migliori Daniela Pallarie, 9 gol per lei, ma anche Lusiana Fabricatore, 6 reti e il portiere Romina Ramazzotti, autrice di diverse parate decisive. Tanti volti nuovi in campo, la differenza con il Casal Grande, una squadra più amalgamata però non si è vista, una vittoria alla fine, è arrivata una vittoria importantissima soprattutto per la classifica. Noi sapevamo di essere partiti in ritardo, avevamo preparato la squadra un po' all'ultimo momento, quindi c'era un problema di amalgama e sapevamo che oggi poteva essere rischiosa la partita perché, ripeto, la squadra aveva giocato poco insieme, però avevo grande fiducia nelle ragazze che l'abbiamo prese perché sapevamo il loro valore. Questa squadra mancano, come ho sempre detto, le due sorelle Canessa che noi rimaniamo sempre fiduciosi che possano arrivare. Vi ricordiamo che questa sera alle 21 torna la trasmissione Biancorossi dedicata in maniera specifica al Teramo Calcio. Gli ospiti della prima puntata saranno Mimmo Di Antonio, ex direttore sportivo del Teramo, Federico Carboni, dirigente sportivo e Giuseppe Tambone, esperto di diritto sportivo. Ho previsto anche un collegamento telefonico con il legale del Teramo Calcio, Vincenzo Cerulli-Irelli. Dunque, non perdete l'appuntamento tra breve alle 21 con Biancorossi, condotta da Andrea De Aloisio. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione e buona serata. Grazie a tutti.